Cari fedeli e cari fedeli, prima di tarvi la mia benedizione, desideravo ringraziare il governo italiano di questi splendidi interventi chiamati social card, bonus gas e bonus elettricità, che tanto hanno aiutato i nostri fedeli più deboli, più poveri in questo regno terreno, e invece non hanno aiutato quelli che tanti dicono che vanno aiutati, queste giovani copie che condividono il talamo senza essere uniti nel sacro vincolo del matrimonio, peccatori. Per loro niente social card, niente bonus case le città, l'inferno, nella terra come nell'aldilà. E inoltre volevo anche chiedere di smettere questo mal costume, di chiamare le diocesi, Haci diocesi, simbolo di federe o comunismo, chiamiamole piuttosto Haci diocesi. Vi benedico, fratelli fedeli.